Ciao ragazzi youtube, benvenuti in un nuovissimo video da Hector Elio della Peglia Sono dentro il bar Caffetteria 6 gennaio Ammirate Guardate Il vostro zorro verde vi mostra I vari All'interno del bar Vari Vari cose Vari Alimenti Strumenti, utensili, arnesi Che roba Benissimo E adesso Dirigeremo verso La piazza di Rocca Gorga Andiamo alla piazza di Rocca Gorga No se io al bar ecco sto facendo il video rapido di un minuto ecco Sto facendo il video di un minuto ecco No a te non ti sto ripetendo Al bar mi sono comprato una tè e mi sono bevuto Sì 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 No 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 tranquillo stendo per cu Non mi fai il salto Senti Tra due minuti Vai tranquillo Sì sì Va bene finisco tu E quindi un riro rapido di Rocca Gorga Ecco abbiamo finito ecco Siamo verso la fine del nostro giro rapido di Rocca Gorga Vai beh salutate D'accordo Ok siamo qui Finito Il giro rapido di Rocca Gorga Insomma A posto E Va bene ecco i vari arnesi I vari strumenti I utensili Del bar Caffè E insomma Fantastico Benissimo Il calendario 2020 è la Coppa Italia Veramente Un emblema Fantastico Bello bello Diciamo la frase del giorno Perché voler essere qualcosa Quando si può essere qualcuno Di Gustave Lauper Veramente Un poeta Fantastico Benissimo Allora ragazzi Il tè l'ho bevuto sia per me Che per Luca naturalmente Ma io ce lo farei Vabbè Allora ragazzi Ci vediamo In un nuovissimo video Purtroppo non abbiamo trovato Altre bariste Belle però fa niente Dai E quindi Aspettate un attimo Non c'è nessuno Sì 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 Ah Ok Sì sì A posto A posto Arrivederci Ciao Ciao Oh guarda che vado a vedere Se c'è il quadrato Non si seduce No 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 Non ti ho un quadrato No 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 Sotto qua sotto Benissimo Veramente bello D'accordo ragazzi Ci vediamo Un nuovissimo video Ciao Al vostro actorelio Della Pegna Buona la prima E'errata goza E'erata goza